Da che sono qui non faccio altro che firmare delibere di raffrescamento degli ambienti dei presidi ospedalieri. So che in questi quasi tre anni di presenza nella ASL di Teramo siamo passati da una percentuale veramente minimale di condizionamento degli ambienti ospedalieri a una percentuale che è ormai la quasi totalità. Nello specifico ogni presidio come è stato condizionato fino ad oggi? A seconda delle necessità ovviamente per esempio parliamo per un attimo del presidio Mazzini che mi sembra quello che è oggetto oggi delle maggiori polemiche. Il presidio Mazzini che è come tutti quanti sanno oggetto di un appalto per 11 milioni di euro per una ristrutturazione al momento attuale è condizionato per specifici spot cioè per dei condizionamenti parcellari a seconda dei reparti anche con dei costi molto molto limitati. Qualche problemino invece c'è all'ultimo piano dell'ospedale di Giulianova in fase di soluzione? L'ospedale di Giulianova ha una storia a sé stante perché il sesto piano ha delle problematiche che sono oggetto di tutto uno studio che è in corso e che dovrebbe essere ormai in dirittura d'arrivo con una ristrutturazione totale. Oltretutto come forse alcuni sanno dei nostri telespettatori stiamo facendo dei lavori nell'ala est dell'ospedale per trasferirci la cardiologia con l'UTIC in un ambiente nuovo, molto moderno, molto ben fatto e quindi la parte ovest dove la cardiologia con l'UTIC era allocata fino ad oggi sarà completamente ristrutturata.